C'è l'orso! Ritoptat! Ritoptat! Ma perché si chiamano così loro? Ah ma finissimo! Ma credo che ci siano gli Amis, insomma... Sono i vendidi russi questi! Questi sono vestiti tipici, costume russi! Guayana questa canzone! No no no, io questa canzone qua l'ho già sentita! Guayana! È tipo... è un ukulele russo tipo! È un'esplosione! Guarda, questa canzone esplode! Mettiti tutte le tue le cuffie! Madonna, sentite il ritmo! Super sound! C'è qua parte il rame ragazzi, qua parte il rame! Spacca stupendo! Mi piace! Lui mi inquieta un po' però con l'ascia! C'era anche uno che non c'era di parti marziali! Cioè quindi le russi quando vanno in discoteca vanno così... Si vestono così ma è giusto! Ma tra l'altro io voglio uno di questi costumi! Si! Se mi tagli entra in discoteca con un'ascia! Bellissimo! Bellissimo! Non capisco se le barbe sono vere o funne! Vere? Che spiega? Eh! Eh! Comunque se metti un... Eh! Eh! In una canzone funziona sempre! Eh! Eh! Senti il sound! Eh! Guarda che spacca! No no no! Questi sono tipo i padri anche tirolesi... Un mischione un po' di tutto quanto! Austriasi! Guarda guarda! Grande! Cioè lascia che... Cioè la... Loro... Loro sono troppo... Questo contrasto passato innovazione è il sound dei giorni nostri! Sì! 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 Ci dite con me! Cioè è drum and bass! È drum and bass! Barbe qua! Eh! 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 L'estate! Sì! Penso che sia uno dei miei preferiti! Questi sono i miei... Cioè non ti viene voglia di... Spaccare tutto come una certa? Sì! Spaccare tutto! Sì! Un cacchio ha fatto quello scusami! Ho fatto tornando dietro a questa roba qua! È difficile da fare così! È fortissimo questo! Ovviamente... Guarda! 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 Guarda il secolo! Guarda il secolo! Ma scusami! Ma in Russia gli orsi! Sì! Spiegatemi una cosa! Ma sono veramente dappertutto che ho visto un video con l'orso su Sidecar! Ma adesso lo... No! 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 Vabbè! Hai capito di cosa serve l'accetta? You should know past! Questo è Gandalf! Lui è Gandalf! Ma è il canto! Ma è il rosso! Io voglio essere il nostro personaggio! Anche l'osso, ma così! Questa è una delle quali più! C'è lì, i rave, le feste, si fanno con gli orsi! C'è! Perché poi c'è l'imagine, no? C'è l'imagine! 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 C'è l'imagine!